io sono Peppa Pig e questo è il mio fratellino Peppa Pig questo è Mammina e questo è Papino Peppa Pig la soffitta dei nonni Peppa e George vanno a giocare a casa dei nonni buongiorno nonnino nonnino! oh oh! buongiorno Peppa! buongiorno George ciao ciao ci vediamo dopo ci vediamo dopo vivi stiamo riordinando la soffitta cos'è la soffitta? è il posto in cui stanno le cose molto vecchie anche tu allora vivi lì no lì ci sono cose perfino più vecchie di me possiamo aiutare? come no? stanno salendo verso la parte più alta della stanno salendo verso la parte più alta della stanno salendo verso la parte più alta della casa lassù c'è la porta della soffitta e come facciamo ad arrivare fin là? guardate ho un piccolo troppo eccomi qua buongiorno tesori ciao nonna forza venite questa è la soffitta wow! è piena di cose sì soprattutto cose inutili ma Peppa e George ci hanno offerto il loro aiuto per fare un po' d'ordine ottimo perché non cominciamo buttando questo scatolone? oh per favore questo no a che serve una cosa del genere? a niente ma è la mia nave in bottiglia e questa qua? è un'altra preziosa nave in bottiglia no? e queste allora? sono gli altri miei splendidi modellini mi servono tutti beh dovremmo pur buttare qualcosa sì hai ragione cominciamo con questa scatola no sono i miei cappellini oh cielo non riusciamo mai a decidere che cosa buttare ho un'idea facciamo decidere a George e a Peppa ok allora che ne dite di questa valigetta? oh no 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 non è certo una valigetta qualunque guardate si tratta di un vecchio giradischi oh e questo qui era il nostro disco preferito possiamo sentirlo? certo oh non lo ascoltiamo da anni mamma pig va a prendere i bambini buongiorno non c'è nessuno mamma pig non sa dove siano che cos'è questo rumore? mamma oh eravate così? andiamo parlando la canzone preferita di not ascoltavano questo disco tutti i giorni oh e questo invece era il mio preferito quando ero piccolina come si chiama? il titolo è il passerotto fa bau bau no il passerotto fa bau bau no non volevi ascoltare nient'altro ero convinta di averlo buttato via invece era quassù fabio del luisua ancora ancora E' stato divertente, ma non dimentichiamoci che dobbiamo ancora decidere che cosa buttare Peppa, secondo te che cosa dovremmo tenere in soffitta? Penso che dovreste tenere tutto quanto! Sembro Fabio, ma sono troppo forte!